Ciao a tutti, sono Alberto Berselli e sono responsabile del team che ha sviluppato le funzionalità elettroniche della nuova trasmissione Dynamic Command di New Holland. Oggi vi parlerò della funzione Dynamic Start-Stop. È una funzione che permette di arrestare e far ripartire il trattore unicamente agendo sui pedali dei freni. La pressione del piede sui freni determina quanto possa ripartire, quanto veloce possa ripartire. Di fatto il trattore debba rallentare, addirittura fermarsi e fare senza del pedale frizione. Quindi si deve stoppare il trattore, si deve ripartire e questa funzione diventa eccellente. Può essere un esempio l'utilizzo col caricatore in cui ci sono dei posizionamenti millimetrici in avanti e indietro, l'utilizzo della pressa in campo in cui ci sono parecchie fermi e ripartenze della macchina, l'utilizzo in trasporto. Se arriva al semaforo ci si ferma agendo unicamente sul pedale del freno e si riparte unicamente rilasciando il pedale del freno. Un altro vantaggio è che a differenza dell'utilizzo del pedale frizione agendo sul pedale del freno la macchina rimane anche frenata e posizionata nel punto in cui si trova, cosa che non accade quando un operatore utilizza la frizione perché la frizione stacca la trazione e lascia correre il trattore e quindi occorrerebbe usare in modo combinato, in modo tradizionale, frizione e freno. Ciao a tutti ragazzi, buon lavoro e buon divertimento sul vostro T6 Dynamic Command.